Buongiorno amici, andiamo a vedere adesso ad eseguire questo pane. Farò un pane semplice con una farina integrale macinata a pietra dove metterò fichi secchi e noci così ci sarà proprio il sapore del Natale. Bene, seguitemi! Allora, ho fatto un impasto in planetaria, la solita procedura, poi magari come riferimento vi metto il link di un altro impasto, sempre di pane, e l'ho fatto riposare, ho fatto le classiche pieghe in ciotola, due ogni mezz'ora, poi l'ho ottenuto un'oretta e questo è il risultato. Come avete visto ho fatto ancora altre pieghe, adesso lo copro e lo lascio lievitare a temperatura ambiente. Quindi, dopo che l'impasto è cresciuto, diciamo 4-5 ore, dipende dalle temperature, vado direttamente ad allargarlo sul piano di lavoro, in questo modo. Non è proprio una laminazione perché non lo farò, non lo allargerò più di tanto perché è troppo sottile, poi magari con le noci, con la frutta potrebbe bugarsi e non lega bene. Quindi lo allargo un pochino. La frutta l'ho spezzettata, le noci le ho spezzettate con le mani, quindi grossolanamente, le ho lasciate un po' grandi. I fichi li ho tagliati in due o tre pezzi. Una manciatina di uvetta, ci ho messo appena una manciatina. Il peso è approssimativo perché se volete potete anche metterne un pochino di più, questo a piacere vostro. Io, vedete, non è molta, allargo il sistema un pochino, così. Ecco qua. Perché voglio fare insomma un pane, diciamo, non quelle pagnotte che si fanno in Toscana, anche in Val d'Aosta mi sembra, piene piene di frutta, voglio che sia più pane che frutta. Però questo scegliete voi, insomma. Ripiego così, in questo modo. Ecco qua. Quindi avete visto, non ho fatto altre pieghe prima di mettere la frutta, ho allargato direttamente. Arrotondo un pochino e adesso lo rimetto, lo metto dentro un cestino, dentro il mio cestino per pagnotte, dove ho messo la semola, ho infarinato, lo giro con la chiusura sopra, lo copro e lo lascio lievitare ancora. Metto ancora semola, lo copro con un telo, diciamo che dovrà lievitare ancora almeno tre ore, dovrà crescere di volume. Bene. Allora, eccolo qua. Diciamo che non si vede molto la crescita perché la cesta è larga, però insomma è cresciuto. Sono passate in circa tre ore, l'ho tenuta a temperatura ambiente, ho acceso già il forno a 250 gradi con due spruzzi, anzi no, ne metterò uno soltanto di spruzzo, vi so che c'è la frutta e comunque forma un po' di umidità. Quindi vediamo adesso, metto un po' di semola, vediamo adesso se riesco a fare dei tagli perché qui la lametta credo che si sbatti contro la frutta. Vediamo se, sì, faccio due tagli così laterali. Sì, si fa un po' di difficoltà, però li faccio lo stesso. Vabbè, facciamo anche un disegnino, anche se i disegnini andrebbero fatti prima dei tagli, prima il disegnino e poi i tagli. Però, ecco qua. Ok, a questo punto posso far scivolare la carta forno sulla teglia che è bella rovente già nel forno e vado. E questo è il pane, vedete sta crescendo, dopo 20 minuti ho dato soltanto una spruzzatina di vapore e poi, dopo 20 minuti, ho abbassato gradualmente fino a 200 e poi 180. Vi metto in descrizione, vi metto la descrizione della cottura. Ho aspettato un pochino per tagliarlo qualche ora, ho fatto raffreddare e vediamo com'è l'interno. Eccolo qua. Io direi che va bene, calcolate che questa è una farina integrale, integrale macinata a pietra. Direi che va molto bene. L'ho già assaggiato e ha un sapore indescrivibile, buonissimo, veramente buono. E' un pane particolare, molto adatto per il Natale. Bene amici, vi ringrazio della visione. Come al solito vi invito a lasciare un like e a condividere il video. Ciao! 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 Ciao!